Ciao in faccia a tutti ragazzi qui a Canelube bentornati in un nuovo video questa è una canelube fanboy che è lo smartphone stoccato in D4 siamo in 2Q ragazzi con una persona molto famosa nell'ambito di sia di youtube che di brothers frenesi e frene so qua ha fame un po' a prendere un po' il carretto del busto mi ha detto che vinco questo vuole che perdo e mi dica che a te allora stiamo freschi stiamo freschi ragazzi so che non porto tanto le challenger inside me ma è perchè con i main sono diventato challenger no è vero ma semplicemente gioco meglio se non registro quindi datemi tempo fatemi arrivare tipo a 120 punti master così poi se registro una partita e perdo sti gazzi capite ragazzi adesso sto a 70 punti comunque e con lo smurf D1 50 punti that's coming tu che pensi di contro lo svain che pensi di fa? perdi di viseggio per stile no di pensi di mince o perdi non lo so senceramente senceramente manco so più che fa swain perchè l'hanno rework no in realtà lo so che fa è bello rotto è bello rotto l'importante è che non c'è mogli all'inizio quello è poco ma sicuro l'importante è sboblave mmm mettiamo tutti qua 20 trash vene c'ha il classico nome da smurf come si chiama? smugli2 ho visto c'ha 12 vinte una persa allora io mi faccio una foto per instagram non me la faccio ragazzi però followatemi su instagram che sono molto bello guardi io vorrei startati pure i pillar però guarda un po' guarda un po' che viene qua vabbè l'ho ha inserito più o può bugger? c'è vero bugger ha flashato se si giovani fosse venuto prima bugger f non puoi viaggiarmi divertiti se ci fosse stato si giovani prima io ho messo pure un bel pillar si ma si giovani è sbagliato che cazzo aspetta si giovani io c'ho brutta esperienza e inizia con altri spell ho visto ieri la partita qual'era? quella che vi start si ma guarda se vabbè stai contro svenia quindi alla fine non c'è tanto tanto anche se avessi iniziato ad alcuno gli avresti fatto addosso lo stesso capito? lo sai che mi farei? lo sai che mi farei? lo sentire a Tiamat che dici? Tiamat mi faccio la spirit poi mi chiudo la titanica potrei fare così pure e vabbè ora vedremo all'inizio quanti danni mi fa magic resist ce l'ho ho fatto una cosa che mi sa che non ha mai fatto nessuno in tutta la vita degli perpegni se lo devo fare un pappagallo coriamo ho preso il TP ragazzi perchè sto contro TF se no proprio voglio aver preso il Barrier Exhaust non mi è levato così tanto sembra non mi è levato così tanto sembra per la cold mouse win diventa più sblanchato in late game che diventa tipo un wave clear capito? mi pare che dà la priorità ai 100 strano no buon 6 uns ahi hai parte il flim parte il flim in D5 Cominciamo bene Io sto a far mandare dei mini Avunque per caso è stato top No, mi pare no Questo è arrivato subito Addirittura stava dentro il bash Aspettando Quindi no Oh ma gli finirà il mana questo Tutti i mini non sto a fare là Ma quello sveny c'ha la passivata che recupera a mana Lo sai? Eh questa non la sapevo Sì ogni volta Oh maggiore sto a fare tutti i mini What the fuck Mentre mi devo fare per forza Magic Redis Malevato troppo E' che comunque la cosa mi zona proprio dalla farm Ma comunque No lo so ma infatti Ma devi stare tranquillo Tanto Ciocare di farmi quello che puoi Cos'altro che non da kill C'è solo un'idea Ho flashato perchè tanto Ho salvato poco ma non c'ho il flash Ammite me lo sai che le QDTF mi hanno intratto due volte? Qual di? Perché ho m'intratto una prima volta Poi ho flashato e m'intratto una seconda volta Ma dovrei fare il calice o il morello? Grande questo Bel gank Mi è piaciuto questo gank Ma per lui c'è il TP Eh Non me l'ha pingato Io ho guardato che arrivava Però non sapevo manco se stava a fagiorgio o meno Ha preso e c'è andato Veramente bomb C'è TF Ti fai un po' tardi Ti fai fatto la scende prima vita in TF Alla vecchia guardia Alla vecchia guardia All the guards Alla gross gore Alla gross gore Stava streamata meno che ho sgore Ma sai che ti posso dire una cosa? Te lo stavo su Twitch o su Google? Eh esatto te lo stavo a dire Ma com'è? Eh perchè Twitch E' un ambiente sarà E' una cosa per l'altra C'è uno ci va spontanamente Ma non è quello proprio Io so quando streama lui no? Però non ce la faccio a guardarlo Sulla piattaforma dove streama Eh non mi piace Anche a me Non dico il nome perchè magari Il copyright Ma perchè magari molte persone non lo sanno Dicono perchè te sta Cioè E' come se fosse tipo Provato un placement al contrario Comunque ci vorrei stare proprio con Mild Un'altra volta? Non so ma se poi vado pusha Oh e' top il maiale Io lo voglio dare regalato Questo deve fare un po' di giungla Sto veramente indietro Si? Sei giurale? Ah volgo Questo sta al 6 TF 6 TF non c'ha il TP però Quindi se va a bot e prende un bel po' di A me se tipo Minimo minimo Gli viene Gli da tipo a svenere le varme con TF Mi chiedono Non credo Si si C'è la ultimità C'è la ultimità Eh ancora no Un minuto Buongiorno Bossa è che si giuano in modo livello Mi serve a me sto blue, tanto lanche fa niente Cioè di solito i secondi blue li lascio guys, però su sejuani che alla fine ha il gank solo di ulti E con il 10% cooldown, no il cooldown è ancora 10% Missa TF, ok Boh, questo senza mana mi è venuto in faccia Come piace a te? Esatto Ah, c'è vuoi con me Guarda questo, secondo me Il blocco è una ultima, è venuto di W Avevo guardato dall'altra parte, avevo guardato Mi serve una pink, è solo che Non l'ho potuta comprare, sto main Però sejuani di qualcosa deve far Sejuani mi deve covrere la tor Però non me la covrere, non lo sapranno Cavolo, vorrebbe venire TF top No, sta qua a mid Eh, dei ultimi No, il problema è che mi hanno preso tutta la tor mid Se mi cade, if, mid Se la mid cade, metti No, son morto Io non è che chiedo il gank Però quello lì mi sta sottoturra a pushare Mezzogna dal farm No, per l'altro sejuani è un pick da merda Cioè non è neanche colpa sua perché Cioè nel senso a fare Proprio il pick che non capisco I dei sgri siamo molto forti però Anche se in realtà io tipo verso la mida Questa, qua Più più che altro non... Cioè devo sempre sta sotto torre perché Mi mette quella a Q e ma... Trash qua TF missa, mi sa che prende il botto è il gank atop, è tanto emotivo Il problema è che io soffri gank perché TF c'è anche il flash Capito? Ok, U-Wong è stato upside Ah, va dentro Guarda che c***o è Un po' morto Ho flashato Se lo volessi salvare Devo flashare Chi ha flashato? Ma quanto si tanka? Madonna Vabbè TF ha flashato? No, la TF no Ha flashato 2A Oh, forse il botto è per me una barba qui Madonna, inzirata tra dove c***o 2A non ha flashato Vabbè, eh, Swain, F, vabbè Buono, dai, perlomeno hanno preso double bot Non è male, capito? Eh, Wukong si ha salvato Se moriva Wukong era morto Eh, sarebbe stato molto buono, sì Io dovevo flashare prima, ma non pensavo a me da passare addirittura Ma hai visto quanto si è tankato? Sì, si è tankato un bel po' E neanche lì ci ha tutti i stili M da dama Eh, però se il Giovanni si vede proprio che non... Che è un bel pippone Che falli o no? Che falli o no? Niente, qua ha preso una mara di vantaggi Questo è morto Freezza, freezza, non pushavo Eh? Eh, ti pushavo, forse Devo push... eh, ma... Devi freezzare quando è così? Eh, ma pushava già Così almeno gli faccio perdere un po' le minie Ma sai che ha tippato qua, non so sicuro Sì, sì, ha tippato How, è da, non so sicuro Con me ho i far fatto Eh... Ouh... Che non c'ho neanche ward per la mappa io, non mi aiuta nessuno a ward a... Io ho comprato una pinca ma l'hanno levata. Ma sai qual è il problema? C'ho la stessa fanno dei df, però io ce la passivo quindi probabilmente c'ho più fanno di me. Il problema adesso è che ora questa si fa caldare come una cogliona. Mi sembra anche a me mi stanno sentita veramente alta, c'è poco un cosiddetto. E' morto sempre perchè mi hanno gancato. Ma l'ha unita e mi busscia pure. Aiutami. Il bot è morto. E' morto. Ma se Giovanni non può far male. C'è... Hai visto la ulti? Si è caldista. Io l'avevo detto in Champions Select, non lasciamo chi l'ha giù. Sì ma qua ha fatto il pick de merda. Non è il fatto che abbia piccato che non stia giocando bene. Il pick che ha fatto non gli permette di gankare. Non gli permette di mettere pressure. Io non c'ho atp niente. Pace dio santo, sono Giovanni. Però... Voi c'avete Swain niente dietro e io non c'ho atp. Ok è andato via. Ha tippato come sa lui. No no, ha tippato e è venuto a fretta. Hanno preso tutte le torri loro. Quindi adesso non ce l'ho più un cazzo di tanto. C'è non va giù. Ma che è? Ma guarda via. Questa è molto emozionante. Ma che modo è in mezzo di top? Eh questa la dovrei pusha. Vabbè... Vado via. Ah no, stanno a bordo. Eh lo so ma mi serve qualcosa per clara qua. Io c'ho tp. Ma c'è un bello z-rabbadone. Ha creato il blu qua già, sta coglione. Lol. In let game ne siamo venuti più forti di loro. L'importante è che non ci cauti Vukan. Beh. Se non succede questo... Eh TF è grosso. No, io so più grosso. Da 6-0. Io tp sono morto più in posto di lui. Qua ti mostra. Se Gioani vede... Cioè lì in mezzo a 5 persone sotto la torre nostra è andato al liscio di Vukan. Non lo so che sei morto. Non lo so che sei morto. Adesso. Vabbè. Vabbè. Ah. Ha flashato pure Vukan come sa lo sai. Ma che cazzo fa? Cazzo. Ma... Cazzo. 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 Poi dici perché hai detrusciato da D1 eh. Cazzo sarà qualche motivazione? Cazzo. 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 Eh, ma guarda top Eh, sono più mid E gli lascio la top? Non credo che cade la top, vieni mid! Ci killiamo tutti e due qua Eh bro, guarda qua Eh, vabbè Io c'ho la TP, cioè Se vuoi di hit, ma... No, no, non ho preso, non so bene di hit Proprio anche il win qua Non sto all'11 Ma però so, flamma troppo Non dovrei essere così tanto 5 mid, vieni, proviamo a farlo Sì, sì Ok Eh Non c'è neanche una ward Stavo venendo a fetta La metto io, la metto io Eh, ho preso pass wayne Pass wayne No, stavamo sul vini qua Eh, io sto su Guarda con quanto si è salvato Te lo dà la speed, si fa Oh, v con v V o me non c'aveva più a v Basta via 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 Ma perchè hai attaccato i... Ah, eh, v... Eh, io c'avevo un vini Ho fellato la ulti, sai perchè? Leone ha flashato via Noi c'è stava Vabbè Vabbè Io ho fellato la ulti perchè Ho preso tre persone Ho messo lei su Leona No, lasciala a me la botte farm, lasciala a me Noi c'è stava cosa, come cavolo si chiama? Il tipo che Io ho messo la bollino A noi Swain ce l'ha zonato No, vedete Io ho preso Ho messo lei su Leona E lei ha flashato fuori e io ho ultato Cioè, lei non poteva saperlo Poi c'è una palla Però lei non poteva sapere che flashava fuori A noi ci ha zonato Swain Sì sì ho capito Tf 802 sta C'è sempre 9 torri Mid è quasi caduta comunque Sì Sì Più che altro che Tf con tante kill appunto Cioè, lo mette un sacco di pressure Ma non è un problema perchè Cioè, noi andiamo 5 mid e lo sconfiggiamo C'è Lucian Drake, possiamo fai darlo Vieni un po' Pieri qua Ho TP eh Ho Pugong Eh Ok, vado via Ho dovuto tippa Ho bella ulti, cazzo Ok, c'è Pugong qua Non posso riparla io Tf adesso Aspetta Lo sapevo che non dovevo manco tippa lì Se Giovanni è riultato un'altra volta Perché non c'era nessuno Ho ultato buffo se Giovanni Eh Mi fai neanche Zrial se sta Cioè, l'ha beccati tipo in quattro Però non c'era né Zrial Io stavo col tippa Eh, a me mi ha aggiornato Vugong Eh, a te eri là Cioè, se continuo a sprecare ulti così Cioè, stavo uno, tre, quattro Vugong che sta a 2-0-10 Cioè, c'ha 12 partecipation E' Zwin Da, ma Zwin Zwin non ha fatto niente Sta a killato uno vs su Eh, ma ha killato uno vs su Nooo... C'è stato mezz'ora lì top a pusha E' stato mezz'ora lì top a pusha Io non potevo neanche avvicinarmà la farm Come fai faccio Trumball e lo Zwin? Ma avvicino Guarda qua Come guarda questa Questa è una far blue intanto qua Oh guarda guarda viene una cotata L'ho mandata e niente Oh è buono è buono è buono Eh nessuno che la fa lo vada Niente Eh è lei che è incentrata Nessuno che la fa lo vada Un'altra Mo c'entra Un'altra volte a buffa Dai vai bot Vai te troppa Ormai sto più vicino Ah vado io top Però che clero più veloce io rispetto a te Che vuole ward al baron Può essere che sto stand up No 3 c'è sta la Però può essere ce l'hanno C'hanno la pink Il problema sai qual è che c'hanno TF che mi può caldo a bot Vgong Vgong se mi viene invita solo mi kill Quindi non posso permettermi di pushare tanto Però lo faccio lo stesso perché I don't give up Beh Fail Yo They sit on TF Gave Them The Results No SMR Oh Guarda quanto cavolo mi toglia Oh ma mica va giù sta merda Vado io a difendere il botto però Anche se la team è un po' da va però Ecco La prima volta che ho pushato è quando ero livello 2 Che poi sono andato via Dovremmo andare 5 mid Quello ha ultato solo per bene Ma se se la kill è ancora buono Eh ma neanche se la kill la La triantatia non ci sa Sono morti tutti Vip Guarda lo sca... Non è che scappa verso il lato il giovane No pure il leone è mezza cieco Guarda sanno andato il giovane se gli ho dato la mano Eh no 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 Chiudo così un po' dopo l'altro Quanto è una bella giocata però No questo viene mid e quell'altro push a mid Ma hai visto che hai fatto? Eh no Mid è andata Prova a difende C'è una magec la resiste loro solo Eh vorrei un po' Ma vorrei me faccia la zona Tanto devo cercare di shot a Vayne Go 5 mid and try to win a fight Vai stress la team Ultra ultra Vado a creare un attimo il bot Che questo c'è il push Stanno due bot Stanno due bot Baro? Serve aiuto il bot Ah C'ho TP Buono buono fatto bene Vai coprate il bot Occhio che ti vengono da dietro qua Sì ma tu te lo reggi Tf e v Sì tf sì V con me No Quindi io ho Zero Sì ma questi stanno a fare come se voglio fare Sì ma infatti non posso venire qua Cioè Veramente non mi può venire qua Sì ma se molto giociamo sotto l'errore Io non so lo cazzo Devo andare Tf e flash Ah se è una dead bomb Eh che culo Vai che ramide se ce la fai Ma vado anch'io Eh mi sono preso Ma una felbaron questi Mi sono preso il trinket brew perché se no ogni volta finisce così Vai un poveri se stanno a felbare Qua ci potrebbero pure aspettare un bash No non so se stanno a fare bene là Eh forse ora si No Viene qua Che mi ha preso il blu Ovviamente Vado io bot Vado io vado io Che tu non c'ho Botta E gliela fai Ah mia Eh neanche il tempo di fare E volevo mettere pillar Cosa fanno arvare Che pal Oh che faccio Sennò li flammo tutti Oh ma non lo vedono che ci vuole Cato ad un'ora Eh Mo' arrivano tutti Via Via Capottana Un'ora a pingagli che c'è stava Swainelio che voleva afflancare Sembra che dormano Non lo fa la bissa Senti vado bot a pushare Che c'ho Senti Vado bot a pushare Che c'ho il TP Ma proprio mi recaudano qua Ma mi recaudano Cento cento Eh Ah no, vuoi come sta là No, ma pure Tf Morto se Giovani? No Arrivo da voi Top se prendono la T2 Eh, ma lei ci deve entrare Leona, leona ci deve entrare Io provo a difenderla No, via qua, via qua, via qua Ok C'è, stanno a chiude, stanno qua, tipo Push questa? C'è, bar, non ho bar Bravo Andiamo back, po You are all back No Dio santo No, io do no, io do no Dovevamo semplicemente lasciarlo a Sti Giovani still live, padre, non andare via E poi esatto Che poi Sti Giovani aveva pure il flash, aveva la flash pure via Ma ce la fanno a finire così per me? No No, non toriano Però prendono venibili No, sai che Metti il pillar qua, metti il pillar qua Metti il pillar qua Forse si Ah, proprio Sì Ah, peccato Però non è possibile Ogni porta Ma non ho citato Ardham in mid Io neanche ho fatto niente Cioè io più che altro non potevo fare niente Ah, c'è pure più soldi Di tutti Vabbè ragazzi, spero che quel video vi sia piaciuto Purtroppo è stato un video un po' così e così Ma la mid lane è questa Se il loro team è ruota Non potete fare niente Ah, faccio tutti ragazzi, mi rupo Belli Bella